Ma io ho pensato una cosa, volevo sapere a voi cosa ne pensavate, capisci che questo è un social net, quindi cerchiamo di socializzare, ma al di là del fatto se molte, perché ho scritto un post sulla mia pagina, sul mio profilo privato, dove non è che vi possa accettare tutte, accetto solamente diciamo quelli più stretti stretti, i fedelissimi, Volevo sapere, ma al di là del fatto che ho detto alle donne che si fanno 3.000 cazzo di fotografie, ogni cazzo dove vanno, cioè sappiamo tutti i cazzi loro, le vacanze, i viaggi, ma una cosa che io vorrei capire, ma non vi rubi tu cazzo a farvi fotografie? Oh ma vedi che ci vuole un'altra cosa a fare quello che vuoi fare, dici tu hai tutto un po' cazzo a fare i video, ti sembri i video, ti accocchi a fare i video, i fotografie, perché ho trovato una posizione da zocco da mamma quando devi mettere così, perché poi quella là che facete, mica quella là prima che vi siete fanno, avete fatto 50-50, l'avete fatto prima, poi vi stanno scendo, vedi questo, esce gli occhi rossi, no, no, vedi qua il naso come sta ricciando, no, hai visto? Luigia là prima stava con la faccia così, no, vedi qua, poi va, dai, vedi qua, dai, vedi qua, dai, vedi qua, dai, vedi qua, dai, hai visto? Dai, come cazzo a fare, come cazzo a fare, come cazzo a fare, non potete fanno vedere che parte di fin di grado, non potete fare fotografie da mattina della sera, non cazzo? E c'avete, avete tutti i puttani di posto, non cazzo? Quello, io mi rompo il cazzo, onestamente se avessi ad un po' che caccia usma ma che mette così a web come mappia mette così poi ma che mette così può accusci poco magno piatta che fa nata foto selfie con l'amico ma che mette così poter pagare caccia una roba da sacco canato locura che caccia non vede un bidu cazzo il premio nobel a voi a voi vana da fotografi di tutto fotografico apritevi i cazzo di casa per fare i matrimoni vaffanculo e così facete pure i soldi tutti questi cazzo di fotografi sono venduti tutti i fotografi sono venduti questi cazzo di tele quando già stiamo in Rolena voglio vedere se ti faccio una fotografia che poi l'avevi a pagare per farlo sviluppare invece me le fotografie facendo pronti accessi facendo tutto fotografico tutti diventati grandi fotografi grandi fotografici ma solamente un cacamento di cazzo di cacciare poter cacciare e far fare la foto là poter cacciare e far fare la foto là ma quando ve la godete la giornata la giornata non ve la godete mai perché si da a farvi fotografi dalla mattina la sera si da a far e che cazzo quella giornata non ve la godete perché vi fate le foto in continuazione siete sempre con il telefono a me e la giornata come cazzo l'ha godete tutto fotografico io devo aprire i cazzo là vicino a San Michele io devo cominciare a aprire il randolo facendo di cazzo a me e le fotografie di madre mò non è che ci faccio vedere tutti i cazzo di fotografie vostre che vengono uscito a me ma pure un nè un baciociano vediamo non lo sapete tutto nè i fatti che faccio pure la minima perfezione un minimo spiello sapete e fotografate tutto di maniera qui è quello che ti è morto di compagnia vostra a vi trutto tu cazzo a vi trutto